Benvenuti a Ciaxi Parla, io sono Pietro, io sono Michele. Cos'è Ciaxi Parla? Ciaxi Parla è un format studiato apposta per divulgare delle interviste sui temi della cultura, dell'arte e della scienza come se fossimo a noi appunto a vedere sui social delle informazioni e condividerle. Dove nasce l'idea e per quale motivo? L'idea nasce dalla volontà di trasmettere delle conoscenze a chi non ne sa o a chi vorrebbe sapere di più su determinati temi sui quali ci sentiamo molto legati e che sappiamo che spesso sono complicati e sui quali spesso c'è molta disinformazione. E la nostra volontà è quella di trasmettere appunto queste conoscenze al nostro pubblico. Esatto, quindi seguiteci, abbiamo YouTube, Facebook e Instagram e speriamo vi piaccia questo forum. E quindi non ci resta nient'altro a che dire, a presto e seguiteci a Ciaxi Parla. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!